99, non nell'epoca delle Brigate Rosse del 70, non negli anni 80, nel 1999. Figlia di un magistrato, figlia di un deputato del PD, perché poi oltre al magistrato ha fatto il parlamentare del PD e De Verdi. Il fatto che tutti noi si contribuisca i 623 euro di regno di cittadinanza di questa brigatista che dovrebbe stare in carcere, invece sta a casa in arresti domiciliari, non è un mio problema, ci pensasse papà suo che l'ha difesa come avvocato quando lei ha ammazzato D'Antona, non la collettività, perché non è essere fascisti questo, è essere persone di buon senso e questa cosa dovrebbe unire a sinistra, a destra e in centro. Una donna che uccide un signore che si chiama D'Antona e lo uccide vigliaccamente, gli danno 21 anni di carcere, ce ne passa soltanto una quindicina, dopo va a fare gli arresti domiciliari a casa e per di più si prende un reddito di cittadinanza, un paese normale si urla, si urla, non si ammazza, non si prendono i forconi, ma si urla, è il minimo che si possa fare nei confronti di Federica Saraceni, oggi in verità scopre che ce n'è anche un altro, ma già lo sapevamo, sbarchi in fantasma. Continuano, vi noto soltanto cosa dice il Corriere della Sera, che Salvini dice a settembre sono stati 2000 e il giornalista del Corriere della Sera fa, i numeri sono diversi, allora andiamo a leggere i numeri che fa il giornalista del Corriere della Sera, nei primi 5 giorni di settembre ci sono stati 489 sbarchi e nei restanti giorni sono stati 1572, allora ho sommato 1572 più 489 sono 2061, Salvini aveva detto 2000 e questo dice 2061, il giornalista del Corriere voleva intendere, e lo fa capire, che nei primi giorni di settembre quando lui dice ancora Salvini governava, c'era uno sbarco quotidiano più alto rispetto agli altri, ma il principio resta, i sbarchi stanno aumentando rispetto all'anno scorso, questo forse toc toc, anche il Corriere della Sera se ne può accorgere, Di Maio nel frattempo fa il leghista come se nulla fosse, dice non voglio il reddito di cittadinanza, non voglio lo use culture, non voglio lo use culture, non voglio migranti in Italia, insomma fa il leghista, nel frattempo sotto la Repubblica gli piazza la Azzolini, che è diventata del Movimento 5 Stelle, il sottosegretario che dice vogliamo lo use culture, il referendum della Lega cambierà tutto perché vogliono, il sistema uninominale come gli inglesi, a me per carità molto meglio l'uninominale che il proporzionale, ma vorrei segnalare a Calderoli e a tutti quelli che sono pazzi del maggioritario, e io sono pazzo del maggioritario ed è molto meglio del proporzionale, che non basta il sistema maggioritario per governare un paese, in Inghilterra hanno un sistema elettorale per cui vince uno in un collegio e sconfice tutti gli altri eppure non riescono a governare, se tu non cambi il sistema di governo è difficile che la legge basti da sola, sulla Greta è fantastica l'ipotesi di Repubblica perché Letta oggi veramente Repubblica ogni tanto si fumano quello che si deve essere fumato e mieli, cioè il titolo oggi è facciamo votare i gretini, cioè sostanzialmente i ragazzi fino a 16 anni devono votare perché quelli secondo Letta possono essere il grande futuro di questo paese, quindi la soluzione del PD è facciamo votare i ragazzi 16 anni, io sono molto d'accordo di far votare i ragazzi 16 anni, ma non già perché sono seguaci di Greta, perché oggi ovviamente si è molto abbassata la soglia di maturità delle persone, ma lì la questione è sempre politica, quindi siccome manifestano per Greta, siccome l'ambientalismo e il nuovo socialismo del prossimo millennio, portiamoceli a casa così vinciamo le elezioni, Zichicchi risponde oggi fantastico sul giornale, ma insomma magari se Greta studiasse non farebbe un etto di danno, su Kurz è diventato il cancelliere austriaco che è di destra, ragazzi è di destra, l'avete capito che è di destra, che manco ve lo sognate il 33enne Kurz, tutti contenti perché è stata sconfitta l'ultra destra, che peraltro ancora il 16% e peraltro i giornali italiani, compreso Lietta Tornabuoni, oggi su Repubblica, si dimenticano nelle prime righe dei loro paesi di dire che l'alleanza che loro tanto amerebbero tra Kurz e i socialisti, di cosa che potrebbe avvenire e quindi sarebbe una specie di conte bis, come dice giustamente Lietta Tornabuoni in Austria perché passa con i suoi nemici, i popolari, prima avevano fino a maggio la destra, la destra oggi perde, i socialisti diventano nuovi alleati, sarebbe un altro conte, ma c'è un piccolo dettaglio, che i socialisti hanno preso il voto peggiore nella storia austriaca e questo viene messo così a un passò nelle righe del giornale, molto bello, come sempre, il pezzo di Gervasoni, scontro questa ossessione, diciamo, dello use culture, ma il fatto nuovo è che scrive sul giornale, benvenuto quindi a Gervasoni sul giornale e soprattutto a tutti voi, questa sera, tutti collegati a Rete 4, avremo Bersali, uno degli azionisti di maggioranza di questo governo a cui chiederemo molto conto dell'IVA e anche la Borgonzoni si candida o no alla presidenza di Emilia Romagna a questa sera, ciao! Grazie a tutti!